Secondo i dati INAIL sono in media tre al giorno le aggressioni denunciate in Italia dagli operatori sanitari. Si tratta spesso di guardie mediche, operatori medici di pronto soccorso e quelli che lavorano nei reparti psichiatrici. Ne parliamo con Romano Mari, qui ospite, grazie per essere con noi, presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata. Perché ne parliamo oggi intanto? Buongiorno a tutte le telespettatrici e ai nostri telespettatori. Grazie per l'opportunità. Ne parliamo perché questo è un fenomeno che manifesta un disagio sociale. La violenza contro gli operatori sanitari è un fenomeno che, come diceva lei, colpisce più che altro le guardie mediche, colpisce i servizi psichiatrici, colpisce naturalmente i pronti soccorsi. Abbiamo scelto la giornata di oggi perché oggi ricordiamo una dottoressa, Paola Labriora, che è iscritta all'Ordine dei Medici di Bari, qualche anno fa è stata assassinata proprio da un proprio paziente ai servizi psichiatrici dell'ospedale di Bari. È un problema questo della violenza nei confronti degli operatori sanitari che ci riporta un pochettino a quello che può essere il rapporto tra il medico e il paziente e al rispetto che ci deve essere, innanzitutto nei confronti del paziente. Perché il paziente è in pratica l'anello debole del rapporto e il medico deve comprendere che questo paziente deve essere aiutato e capito. Senta, mi può dire il quadro della sua provincia? Nella nostra provincia ci sono casi che giornalmente avvengono nei pronti soccorsi, ma soprattutto per le dottoresse che eseguono il servizio e sono in servizio di guardia medica. Si sono verificati fenomeni sia nella costa che nell'entroterra maceratese, precisamente a Camerino, e ultimamente anche agli inizi di agosto, precisamente il 9 di agosto, ad una guardia medica nel comune di Corridoni, appostamento di guardia medica di Corridoni. Senta, rispetto a questi casi cosa è stato fatto? Un protocollo, rapidamente in pochi secondi. Io le posso dire che le amministrazioni pubbliche, l'ASUR, Marche, è particolarmente sensibile a questo e siamo riusciti ad avere un protocollo adesso ed una convenzione con l'ASUR, Marche, per cui doteremo le nostre guardie mediche di un sistema di localizzazione satellitare, per cui le guardie mediche che sono in difficoltà possono premere un tasto di SOS e mettersi in contatto direttamente con le forze dell'ordine ed essere comunque localizzate. Grazie, grazie mille del suo intervento, grazie per essere stati con noi.